fai un pit stop approfitta subito di un gradito omaggio vs revisioni via gandhi 16 monte silvano pescara hawaii viaggi e vacanze di anna bruna gianzante via gabriele d'annunzio 70 villanova di cepagatti pescara ciao a tutti amici di rrt e radioterapia.it ciao angela e ciao giulio eccoci per la nuova puntata sui tag della settimana sportiva che sta volgendo al termine con una nuova giornata di campionato che si vedrà nel weekend mentre si sta completando il turno infrasettimanale noi iniziamo con un tag doveroso che è il dedicato al calcio femminile perché dobbiamo fare assolutamente complimenti alla roma che ha sconfitto la juventus rigori aggiudicandosi la sua prima supercoppa una pagina storica per la società giallorossa che sta anche migliorando il suo percorso di crescita sta conquistando gradini su gradini il riconoscimento e l'apprezzamento anche da parte delle altre e in realtà una grande conquista una grande vittoria che chissà potrà ripercorrere i duelli juventus roma nel nel maschile i tifosi ricorderanno sensi più che altro e i grandi battibecchi tra sensi e dannelli è un calcio che sembra non esserci più ma che ci fa sorridere in qualche modo per quelle battute a volte anche diciamo pesanti ma che davano vibrazioni e al nostro al nostro campionato una roma che sta crescendo sta migliorando di settimana in settimana un campionato che grazie alla presenza di queste squadre riesce ad emozionarci e ogni volta campionato femminile che sta procedendo come quello maschile che però ricordiamo dovrà fermarsi a breve per fare spazio al mondiale in catar dove purtroppo i nostri azzurri non sono impegnati altro tag dal quale non possiamo non esimerci è la moto gp il motociclismo perché dopo 41 anni un italiano finalmente è salito sul gradino più alto del podio e stiamo parlando di pecco bagnaia quindi complimenti al pilota che è riuscito finalmente a sfatare questo tabù ed essere il settimo campione nel mondo italiano in top class e preceduto da umberto masetti libero liberati giacomo agostini marco lucchinelli franco uncini e il grande valentino rossi quindi complimenti a questo pecco che ovviamente dà lustro a uno sport molto seguito e molto amato soprattutto tra i più giovani una chicca particolare riguarda un altro tag subuteo e pescara perché due pescaresi andrea di vincenzo e fabbrizio fedele si sono giudicati l'europa league del calcio da tavolo e sì anche il calcio da tavolo il grande subuteo ha il suo la sua europa league la sua competizione internazionale e due pescaresi con la loro tigers bologna hanno vinto questo importante trofeo a palma di maggiorca quindi complimenti ai nostri conterranei che hanno ricevuto questo riconoscimento subuteo che accende ricordi di tantissimi nostri web spettatori web radio amatori che ovviamente emoziona pensando a questi piccoli movimenti su un tavolo verde che però ci fanno rivivere le emozioni del calcio quindi complimenti ad andrea e fabbrizio adesso chiudiamo con un tag abbastanza particolare o meglio il tag è sempre calcio femminile però la particolarità che si unisce al teatro vi spiego federica seneghini giornalista e marco giani hanno scritto un libro giovinette le calciatrici che sfidarono il duce una storia ambientata nel 1933 marco giani cura la parte del saggio finale un testo che racconta uno spaccato di vita di storia di donne e di calcio femminile sotto il regime fascista la particolarità il bubu target sta qui è che questo libro diventa spettacolo teatrale la prima nazionale in programma il 22 novembre fino al 27 novembre che si terrà presso il teatro della cooperativa che si trova a milano vedrà la regia di laura curino con il sostegno della fondazione memoria della deportazione della sezione ampi odrieburn quindi uno spettacolo teatrale un libro sul calcio femminile che diventa spettacolo teatrale un qualcosa di davvero emozionante di davvero particolare che sarebbe bello vedere nella nostra regione pescara nella nostra città o nelle nostre città abruzzesi anche per capire come queste giovinette hanno sfidato il duce un libro che mi riprometto di leggere e a breve perché da appassionata di sport e di calcio femminile credo meriti un'attenzione particolare proprio perché si concentra su un momento storico molto particolare del nostro paese che è stato quello della conquista o comunque del fascismo con questo tag così originale ovviamente per chi si trova in quel di milano rimettiamo dal 22 al 27 novembre la prima nazionale può vedere questo questo spettacolo questa riproduzione in scena di pagine di libro con questa tag così e bubu taggete così particolare vi saluto ci vediamo e ci sentiamo la prossima settimana buon proseguimento e buon weekend a tutti grazie a tutti grazie a tutti